ciao questo nuovo video che di solito che faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare che visto che magari come film adesso lo hanno messo sulle solite sulle solite piattaforme che lo si può recuperare ma anche anche gratis come film che è uscito anche quest'anno che li volevo dedicare questo film a questo film che si chiama the idea for you che come film è stato è basato sul sull'anonimo film romanzo di corinne lee del 2017 che come film lo hanno messo direttamente sulle solite piattaforme senza amarei farlo passare prima dal cinema che adesso ho visto che certi film hanno preso mai questa abitudine di metterlo direttamente sulle solite piattaforme senza farlo passare magari prima dal cinema che che ma è come come si dice che come in certi film come questi magari sono più incidivati magari a metterlo sulle solite magari piattaforme che magari farlo passare al cinema che grazie a qualche abbonamento lo sono riuscito a recuperarmelo magari anche gratis questo film qua che se qualcuno ha qualche abbonamento sulle solite piattaforme riesce a recuperare magari anche gratis che visto che sono riuscito magari a vederlo li volevo magari dedicargli magari questo video e portarlo magari sul sul mio sul mio canale che come film come paese di produzione il solito magari americano che 2 a 1 e 50 che 2 a 1 e 55 di di film che come stavo mai dicendo dicendo prima magari è basato magari su questo da questo da questo libro da questo romanzo di robin robin lì che come regia regista di questo film e questo michael michael show walter che come genere tocca al solito morai drammatico sentimentale che morè poi su certe cose ma lei può prendere magari anche la parte magari commedia che parla più che altro di solene che è una quarantenne divorziata che che lavora in una galleria d'arte che quando accompagna la figlia adolescente c'è la solene incontra il 24enne is campbell che che cantante della della boy band augusto moon i due intraprendono ma è più che altro una questa relazione che più che altro morai la trama mare di questo film ea questa quadra questo morai che di questa madre singolo correntenne con questa madre con questo ragazzo rock star morai di 24 anni e che finisce ma è un passo morai dal golf grossi perché intraprendono ma è questa questa amare relazione con questa di questo ragazzo con questa donna ma è molto più grande ed età ma è più grande di lui che che morai più che altro morai questa solene ha preparato tutto il suo campeggio in solitaria che dopo la rottura mare con il marito in inaspettatamente mare si ritrova a a dove combattere all'ultimo a dove accompagnare all'ultimo la figlia figlia e amici al questo coagge coacelle festi e questo music festival per il concetto degli maria augusto moon e li incontrerà questo 24 n che maria con questo ragazzo incomincerà magari questa 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 donna incomincerà a amare questa storia come si dice questa storia e questa relazione con questo ragazzo più già molto più giovane di lui che più che altro mai la trama del film e a questa qua che come stavo dicendo prima ea come trama l'avevano preso dal dal romanzo di robini lì che che il romanzo l'avano tipo scritto già nel nel 2017 il romanzo anche se mare ea ea passato morai qualche anno gli avevano già gli avevano dedicato ma è anche il film che che magari ho visto che ma è il primo trailer del film l'avevano già diffuso il 6 marzo sempre di quest'anno che visto magari che sono riuscito ma lei a recuperare recuperarmi lo magari nel nel guardarlo gli voglio magari dedicare questo video e portarlo sul mio canale che che ne compreso ma è anche se può magari sembrare magari la solita il solito ma è il solito ma è il film è un po ma è sempliciotto però è sempre ma lei il solito ma i film magari anche se 2 a 1 e 55 ma è di film quasi ma lei come film ci poteva mare anche stare se magari per chi magari non ha male e letto il libro mai come film è meglio magari che si va ma lei a recuperare ma lei prima il libro che magari dal mare dal libro al film ma ci possono essere magari anche se la trama ma lei è uguale magari uno magari tra uno e l'altro ma ci possono essere magari delle differenze che magari con il solo e solo con il romanzo ma lei la la trama può risultare magari un attimino ma è migliore confronto mai al film però magari anche da parte mia che mi sono andato a vedere solamente il film magari non è amare così magari da buttare via come film che ne compreso magari il solito film magari per passarsi magari un po il tempo però ne compreso e come è girato come sono girato e magari le scene così magari non è così proprio da buttare via come film che sicuramente ma lei può anche piace può anche piacere come film che magari ho provato a vedere film magari anche peggiore di di questo qua e niente quello che poterò magari di questo film magari l'ho già detto che magari vi lascio come al solito sotto in descrizione magari vi lascio il cast degli autori che hanno partecipato assieme al video video trailer e se riesco a trovare magari qualche altra informazione magari in più sul sul film e sul romanzo magari trovate magari tutto sotto in descrizione e niente quello che potevo magari dire magari l'ho già detta su questo film e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao